Cesinali finisce nell'occhio del ciclone. Il casus belli del tutto politico, ma che potrebbe arrivare in prefettura o addirittura al Ministero degli Interni, scoppia per vecchi post su Facebook pubblicati tra il 2016 e il 2018, inneggianti al ventennio fascista da parte del vice sindaco del Comune Irpino, Pasquale Di Vito. A denunciare il tutto, sempre sul popolare social network, è stato Claudio Petrozelli, cesinalese tra i promotori del movimento delle Sardine in Irpinia. I messaggi, subito spariti dal profilo social del vice sindaco, sono stati però recuperati del gruppo dei giovani per la Valle del Sabato, del quale fa parte anche il portavoce delle Sardine Irpine, e sono stati pubblicati online. Petrozelli ha chiesto le dimissioni del vice sindaco e, rinnovando la sua stima nei confronti del primo cittadino di Cesinali, una presa di posizione di tutta l'amministrazione comunale. Rapide è stata la ribalta nazionale del caso e, non escluso, quella questione a breve possa essere oggetto di interrogazioni parlamentari. Le dimissioni sono richieste a più voci ed è stato lo stesso primo cittadino di Cesinali, dopo una riunione che si è svolta ieri in tarda serata, a chiarire la sua posizione con un comunicato ufficiale. Il sottoscritto sindaco del comune di Cesinali, Fiore Dario, e i consiglieri di maggioranza della lista, lo stemma pro Cesinali, si legge, condannano e si dissociano da tali dichiarazioni. La lista dello stemma che amministra il nostro comune da oltre 60 anni è storicamente, sia dal punto di vista culturale che politico, espressione di ideali antifascisti. Anzi, non ci stanchiamo di ricordare che la Costituzione italiana, nata dalla resistenza, è chiaramente ispirata a valori antifascisti, la cui realizzazione e la piena attuazione rappresenta il nostro obiettivo principale. Siamo convinti, in conclusione, che il vice sindaco farà le sue dichiarazioni in merito alle quali decideremo come agire. Sentiamo comunque il dovere di chiedere scusa all'intera comunità coinvolta, senza volerlo, in una bufera mediatica.